E' chiaro che tu abbia cliccato questo video per ascoltare una storia sul se... Quindi, via il cappello... E fuori l'uccello! In questo video vi racconterò di come sono andato in discoteca la mia prima volta, che era tipo in prima superiore. In pratica io non so se le discoteche funzionino da tutte le parti così, però praticamente tu puoi acquistare la prevendita Il che ti fa pagare meno il biglietto lì in discoteca. In discoteca mi ci ha portato un mio amico che non era proprio un mio amico, perché di solito quelli che ti vogliono vendere le prevendite Sono tuoi amici, non proprio tuoi amici, sono quegli amici di seconda mano, possiamo dire, quelli che tipo vedi una volta ogni tre mesi, una roba del genere. Chiaramente che ti inganna con quelle solite cose tipo, boio vecchio, ti farei un sacco di tipe super fighissime, eccetera, eccetera. Io in quel periodo di tristezza per essermi lasciato con Giancarla, chiaramente era proprio ciò di cui avevo bisogno, Era la bugia che dovevo sentire. E in pratica quel mio amico mi ha proprio fregato, diamine a lui. Vabbè, fatto sta che andiamo in questa discoteca e vi dirò che non era una di quelle top di gamma della serie di ciboia, che figa. Però a me andava bene lo stesso, perché comunque che cavolo me ne fregava a me, voglio dire. L'importante era... ed era anche... Allora vado lì e sono fortunatamente accompagnato dalla mia migliore amica, che era una tipa a disco... Che era una tipa a disco... Che era una tipa a disco... Ma porco... Che era una tipa discotecarissima. Oh vabbè, insomma. In pratica che andava sempre in discoteca a farsi tipo un milione di tipi, girava sempre con quella gente lì, eccetera, eccetera. Vabbè, fatto sta che sta tipa comunque mi racconta un po' come funziona la discoteca in generale, cosa devi fare, cosa non devi fare. Ossia tipo all'inizio, praticamente quando voi entrate, vi danno una cosina, un cartellino, dove ogni volta che voi andate al bar a prendervi una bibita, vi mettono un timbro sopra, praticamente. E così, al posto di girare quei soldi per la discoteca, potete essere liberi dai soldi, avere solo quel foglietto. E in questo modo, una volta che avete finito, quando uscite, dovete pagare praticamente tutte le consumazioni che avete fatto. Ma ne avete una gratis in generale. Ah, perché sì ragazzi, non ve l'ho detto, ma si paga l'uscita. Quindi in pratica tu comunque, oltre alla prevendita, oltre a tutte quelle robe lì, devi pagare tipo 5 euro l'uscita. Io veramente sto business non lo capisco proprio, però effettivamente ha senso e adesso vi spiegherò perché. Allora mi danno sto cartellino e la mia migliore amica mi fa... Occhio a non perderlo, perché se lo perdi, dovrai pagare come se avessi ordinato tutte le consumazioni. E io, chiaramente, indovinate che fine ha fatto quel biglietto? L'ho messo nella scarpa, per non perderlo ho detto, boia, se lo metto nella scarpa, cosa vuoi... Cioè, puzzerà di piedi, farà schifo al cazzo, ma non mi interessa. L'importante è non perderlo perché 80 euro non ce li ho, perché ti può pagare tutto costa 80 euro. Io so che voi siete con le mani nei pantaloni pronti ad ascoltare le storie del mondo, però... Attendete un attimo, abbiate della pazienza. L'attesa del piacere, esso stesso il piacere. Cioè, si sa. È che comunque, a parte quello, la mia amica mi fa vedere un po' come si fa, dove è la pista, è qua, è là, è destra-sinistra. E poi mi lascia libero. Lei va a farsi i milioni di tipi che si fa lei e io inizio a girare. Mi hanno spiegato che praticamente in discoteca, per approcciare le tipe... Ragazzi, si parla di 5 anni fa, si parla di una discoteca di basso livello e un sacco di robe del genere. È inutile che mi dite, no, non si fa così, eccetera. Io vi dico cosa si faceva ai miei tempi. Si andava, ci si appoggiava dietro una, questa una era sempre con una sua amica davanti. La sua amica gli diceva, sì dai, è decente, oppure no, fa cagare. E lei, di conseguenza, una certa, si girava e si iniziava a limonare. Cioè, lei ti ballava un po' sopra, dopodiché si girava e ti iniziava a limonare. Io chiaramente, da coglione come sono, non vado a trovarmi una bassa, non vado a trovarmi una... Boh, no, vado a prendermi una tipa altissima. O almeno al tempo era più alta di me, ragazzi. Al tempo, perché poi io questa qua la conosco in un certo senso. Quindi comunque, dopo quella volta io... Cioè, la conosco, insomma. Non vi dico cosa ho fatto, ma la conosco. Comunque, sta di fatto che questa qua si gira. Non è brutta, assolutamente. E iniziamo a limonare. Il problema è che lei era più alta di me. Ma tanto più alta. Cioè, abbastanza più alta. Allora, non so se avessi i tacchi o no. Ma era più alta di me. Io sono dovuto stare tutto il tempo così. Tipo, con la schiena piegata, così. Cioè, capito? Io avevo bisogno di un mattone. Sembravo un impiccato tra un po'. Cioè, avevo proprio bisogno di un sostegno. Mi faceva malissimo la schiena, raga. Mi faceva malissimo. E vi giuro, vi giuro su quello che volete. Siamo stati lì a limonare per minimo, minimo, minimo mezz'oretta. Ma, cioè, no. Ok, può sembrare un casino. Ma tra il ballare, strusciarsi, qua e di là. Siamo stati lì a ballare minimo mezz'oretta. Sono più che convinto di questo. Perché quando sono entrato in pista erano un'ora. E quando sono uscito erano passati i 45 minuti. E quindi io mi rivedo con la mia amica. Intanto, dopo quella mezz'oretta. Io mi ero fatto solo quella tipa lì. Per un bel ammontare di tempo e con un dolore alla schiena lancinante. E lei invece si era fatta tipo 16 tipi. Ok, va bene. Ci sta. Figo. Io vado al bar per consumare il mio drink che avevo. Non mi ricordo cosa ho preso. E lei, eccola lì, seduta sui divanetti. Di nuovo. Vabbè, io mi siedo su un divanetto che c'era lì vicino. E lei si avvicina a me. E tipo, non mi ricordo cosa mi chiese, ragazzi. Veramente non mi ricordo. Fatto sta che dopo poco si riprese il limonare di brutto. Ce l'ho fatta. Comunque stavo dicendo che ci ritroviamo al barretto. E dopo pochissimo che eravamo vicini là sui divanetti. Si inizia a limonare una vita. Molto bene. Io dico, cioè, tipo, dopo una limonata di mezz'ora. Tempo di andare a prendere un attimo un drink. E bam, si limona di nuovo. Basta, ormai è mia questa ho detto. Dopodiché lei, testuali parole, disse Teniamoci in contatto. Il problema è che proprio in quel momento arrivò la mia migliore amica. E io non feci in tempo a dare il numero. Perché tipo lei mi portò via per una roba urgente. Una roba del genere. Va bene, una roba urgente. Chissà che cos'è, aveva di così urgente, diamine. Che io non ho potuto prendere il numero di quella. Non mi ricordo neanche, sinceramente, perché mi chiamò da parte la mia amica. Poi va bene, in realtà la tipa la trovai anche su Facebook, eccetera. Quando hanno messo le foto dell'evento. Però, sinceramente, tipo, mi stavo comunque sentendo con una poi in quel periodo. E me ne fregava altamente, voglio dire. Di una che ho trovato in discoteca, così. Fatto sta che io, comunque, odio le discoteche. Cioè, non le ho più frequentate. Come... Ci sono andato una seconda volta, sempre lì. Però non mi piace proprio l'ambiente della discoteca. Cioè, ragazzi... Boh, io dico la mia. Poi ognuno è libero di pensare come vuole, se uno vuole andare lì a divertirsi. Però io so che tanti ci vanno solo per farsi dei tipi. Vi do un consiglio, non fatelo. Ricordatevi che la tipa che vi siete fatti, probabilmente se ne è fatti tipo altri 100.000 prima di voi. Ora, io non so quanta autostima avete di voi stessi. Ma io, infilare la bocca dove tipo altre 17 l'hanno infilata. Boh, sinceramente, mi fa un po' schifo. I believe I can fly. No, 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 no.